E l'Africa, il continente più vivace della Terra dal punto di vista cattolico, tra il 2010 e il 2016 i fedeli sono aumentati del 23%, passando da 185 milioni a 228 milioni. In Europa invece la crescita dei cattolici nello stesso periodo è quasi statica, appena lo 0,2%. Per contro in tutto il pianeta, secondo i dati diffusi dall'Annuario Pontificio 2018 e dall'Annuario Statistico della Chiesa 2016, i cattolici battezzati sono aumentati dell'1,1%, da 1 miliardo e 285 milioni del 2015 si è arrivati ad 1 miliardo e 299 milioni. Nella geografia della popolazione cattolica, al primo posto per numero di fedeli c'è il continente americano con il 48,6% dei battezzati del mondo. L'Europa figura al secondo posto con una percentuale che sfiora il 22% della comunità cattolica mondiale, a seguire l'Africa caratterizzata dalla sua crescita dinamica con il 17,6% dei cattolici, aumento lieve nel continente asiatico che si attesta intorno all'11% e infine l'Oceania con il 10,4%. Nel periodo preso in considerazione dal 2010 al 2016 i vescovi sono aumentati del 4,88%, in totale 5.353 nel 2016, mentre il numero dei sacerdoti si è attestato a 414.969 con un aumento di circa un punto percentuale tra il clero diocesano. Crescono anche i diaconi permanenti con una media annua di circa il 3%, si conferma comunque a livello generale la crisi delle vocazioni. In sei anni il numero dei nuovi seminaristi è diminuito dell'1,8%, mentre tra le religiose professe si è avuto un calo dell'8,7%.